Prenda... Aspettare che... Tu è la prima volta? Ma è capace a fare pure una cosa seria Com'è? È capace a fare pure una cosa seria Scusami? È capace a fare pure una cosa seria C'è capace a fare E ora... Si... 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 Czy... Si... Per ora... 157 Quelli veri? Sì, fai 1, 1.8 È buono Ciao Sì, è facile Sì 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 Non Heaven Ecco come si è messi? 2 milioni di punti riparate l'occhio riparate l'occhio signora e tefani si possono usare no la tezza, non va a ricaricare troppo l'altro questa parte deve essere dentro come questo quando si fiume se non si fiume se non si fiume dove vuoi no, è ok questo è un po' difficile l'occhio è difficile più forte l'altra parte anche se contro, non si fiume è un po' difficile è un po' difficile sottotitoli e' un po' difficile se si fiume grazie 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 2,000 punti, man. Ok, next Peter and Jürgen and Peter right and right, yeah? so you have this because I like you so Atos, how much? 100 100, 100 you do what man? 30 30 points and Atos, 100 so Peter and Jürgen you can see I brought it to you 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 the winner is going to win a bottle of champagne we pay from Nicoletta quando farlo scaricare contro la sotto perché tu non ti hai occhio si sta tutto dritto qua and you need to bend a bit the left otherwise crash your the left hand ok bend it a bit right human basketball hello sorry sorry stop bend a bit otherwise it's gonna crash your you're gonna have pain here tomorrow yeah it's real like that the elbow not locked bend a bit bend alright this is better be careful you see that he doesn't you see that now he didn't crash yes 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 because of aerodynamic aerodynamic the left should be the red of the side ok good well done last one you're going to pay and you're better than just no let's bring it up like you're not to have a glass but like oh yeah where are you from guys hola Flemish this one no this Dutch Dutch it's good it's good 50 what's your name peter peter 150 150 it's good but manca victor Victor yes victor victor yes we get he's wrong no 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 ma possiamo fare i campi di frecce con la signora? campi di frecce? si ha arco che frecce prima cambia la signora, passate la signora si ha arco? si no eee la signora la signora si è incferente Scusatevi con questo, ok? Perché si è morto per te Guardate sempre perché stanno uccidendo Scusatevi con questo 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 Grazie per aver guardato il video. uno può usare anche altre dita, come si trova comodo, io uso una tecnica standard per spiegare in maniera chiara e semplice come si tira al cliente che non l'ha mai tirato, poi come tirare la carabina, uno fa così, l'altro fa così, l'ho più, l'ho più, l'ho più, l'ho più, l'ho più. Chi ha fatto un linguaggio con il linguaggio. La riusci delle brille, si ha bisogno di più tranqui. Ci chiamo la riuscire. 50 as well, so now I would like to make a final, ok facciamo una finale, from the first three, top three Peter, finale, Alessia, finale, Dani, finale, dry shoot, three shoot, three tiri, three Yeah, start from the last one of the final, Dani, 120 se il primo tirare, then Alessia, dopo after Alessia, and you are the last one Ok The who make more points is the winner of the competition Chi fa più punti, fa più, eh, tiriamo sempre col bianco Vabbè, andiamo a quello Andiamo a quello Non vuoi tu, no, puoi scegli Vabbè Come possiamo parlare per Alessia, che magari è un po' tosto per lei, quello Questo trova bene col bianco, no? Sì, sì Questo è molto duro da caricare, un po' più Dai, sbaglio, non muovi Uh, buono Tre tiri, tre shot, eh, tre tiri Chi fa più, queste sono le quenne, le quelle? Sì Estoy in un po' toto È un po' toto Che Sì Che È un po' toto Sì Possiamo Goni Buono e non muoio, lo so, anche c'era. Sixty point, 60. Domani o fra poche ore c'è la viola. Sì, sì, fra poco sarà viola. Fammi vedere. Viola, questo qua sarà viola. Show me. No, adesso non passiamo. Today? No, ok. Dalla settimana passata, adesso. Solo se tira Dani riesce a piarlo al centro. Dani tu, Dani, no? No, no, Dani tu. Non ti piace. Non ti piace. Non ti piace. Non ti piace. Hai fatto bene prima? Sei emozionato? No, no, questa cosa. Una pressione. Una pressione della finale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, mamma. Bravo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.